sono le 13 e 36 del 18 febbraio 2023 scendo dal fermentino oggi stengo solo i mappetelo sono ripigliato in energia perché siamo sono stato a sale però qua bisogna stare attenti esatto ecco il fontanelle per anni questo oggi un secolo non so quando l'hanno fatto questo qua forse prima il novecento il restante qui si è otturato l'intera popolazione il luco dei mazzi si distretava gli esseri umani anche gli animali bovini e equini caprini e ovini bovini e ovini e quindi in una strada oh che succese